Cari amici di Camper, ci troviamo nel cuore azzurro della verde Umbria. Così è chiamato il lago Trasimeno e Castiglione del Lago è la sua perla. Dall'Olanda! Guten Morgen! Guten Morgen! Tutto chiaro? Ciao Marcello! Ho preso questo. Questo diciamo è il punto più alto di Castiglione del Lago che è un borgo appunto sul lago Trasimeno dentro il club dei borghi più belli d'Italia. Qui sono passati grandi artisti come Patty Schmidt, Vinicio Capossela. Filippo devi sapere che io sono una sportiva, ecco quali sono le attività che si possono fare qui? Principalmente con questo splendido lago ovviamente le attività che si fanno sull'acqua, quindi vela, kitesurf, però poi ci sono anche splendidi itinerari per la bici, per la piedi e a cavallo. Filippo, scappo, grazie! Ciao Elisa! Elisa! Vieni! Che faccio? Vado! Vado! Si apre! Si apre la vela piccola! Abbiamo aperto il fiocco! Abbiamo aperto il fiocco che è la vela che sta di prua su una barca vela. La vela davanti. La vela davanti, sì. Che è anche la più piccola. Come si chiama la vela più grande? Allora quella si chiama fiocco, questa si chiama randa. La randa, ecco la famosa randa. Grande soddisfazione. Siamo la randa, ecco che sta salendo la randa. Forza Massimo, insieme. Massimo, qui è bellissimo, io veramente ci starei ore e ore, però dobbiamo rientrare al paese. E allora rientriamo. Ho scoperto il regno dell'arte. Che cosa state facendo? Ceramica. Sto realizzando dei piccoli gioielli. Ma posso imparare anch'io? Certo, volentieri. Prego. Faccia così come faccio io. La cosa che mi piace di più è che la perfezione non esiste. Non esiste in ceramica. Ci sono delle creazioni veramente particolari. Questo è stato fatto da un bambino che ha dieci anni. Ma che bravo! Questa rappresenta la ninfa Agilla. Il principe Trasimeno, che era figlio del dio Tirreno, si è innamorato, è andato verso di lei, ma lei intera dentro l'acqua ed è affogato. Ed allora il nostro lago si chiama Trasimeno. Sento il richiamo del lago. Grazie Alida. Ma guarda, ma quante attività fate qui! Tantissime, guarda. Noi facciamo kite surf, anche se. Conosci? Il kite. Peccato perché l'ho già fatto. Sì, Marcello, qualche puntata fa... E quindi non vuoi rifarlo? Vado a cambiarmi. Via! Vai, 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 su. È andata! È andata! La cosa più difficile è tenerlo fermo, vero? Assolutamente sì, devo dire che sei una professionista. Bene! Dai, entrami in acqua. In acqua! Ti saluto, Marcello, che non so come va a finire. Alla prossima puntata, eh! È tutto sotto controllo.